Nel giorno in cui si ricorda il santo patrono d'Italia e protettore degli animali, si ripete la tradizionale benedizione degli animali sul sagrato della chiesa di San Francesco. Tra un ululato e un miagolio, Don Lino ha benedetto un folto gruppo di cani, gatti, conigli, tartarughe, volatili e pesciolini rossi, accompagnati dai loro padroni. Secondo me anche gli animali sono degni di una giusta benedizione, non soltanto le persone. Tu sai perché si benedicono gli animali proprio per la festa di San Francesco? Sì, perché San Francesco parlava con gli animali. Una tradizione che si rinnova e che ancora una volta pone particolare attenzione nella cura del più piccolo, sia esso umano e animale, proprio come ci insegna San Francesco. San Francesco ci porta a contemplare la bellezza del creato e la bellezza del mondo, perché in questo noi possiamo riflettere la bellezza di Dio. Il creato ci ricorda spesso, Papa Francesco, che dobbiamo custodirlo, amarlo, perché è la nostra madre dove siamo nati e dove cresciamo. Il problema è che tante volte noi usurpiamo di questo bene meraviglioso che tutti noi abbiamo bisogno. Allora il rispetto al creato, il rispetto agli animali è un'esperienza bella, perché gli animali non soltanto sono motivo di compagnia e anche di aiuto, ma sono anche quegli esseri che noi possiamo amare senza sostituirli all'uomo, perché questo è anche importante, e vedere il loro, questo aiuto che il Signore anche attraverso di loro ci dà, anche nel farci compagnia. L'occasione ha riunito adulti, bambini e i loro amici a quattro zambe, ed è stato un modo per sottolineare lo stretto legame e l'amore che i nostri animali domestici donano ogni giorno. Questo della benedizione degli animali è ormai un appuntamento annuale molto importante per tutti coloro che hanno un animale a casa. Certo, io la penso anche come lei, per me è una riconoscenza importantissima, a cui ogni anno non posso mai mancare. Diciamo che è ormai una tradizione annuale. L'anno scorso non siamo potuti venire, quest'anno abbiamo colto l'occasione. Essendo anche loro compagni di vita, appunto ci ricordano l'importanza del creato, quindi anche loro come esseri viventi fanno parte del creato e quindi siamo qui per la benedizione. San Francesco è il nostro patrono, quindi amico degli animali e noi qui siamo con gli amici di San Francesco. Importantissimo convivere con gli animali, ma noi abbiamo sempre poi gli ultimi. Questo randaggio che abbiamo trovato per strada l'abbiamo portato a casa nostra, quindi siamo sempre vicino anche agli animali ultimi che sono sparsi per la città. Come ogni anno la presenza dei bambini era numerosa. Attraverso gli animici animali imparano a prendersi cura dell'altro. Questo è importante perché i bambini, così, noi li educhiamo a quello che è rispetto appunto del creato e al rispetto di quello che sono le cose semplici della vita. Francesco, in questo c'è padre, lui diceva sempre che le cose semplici sono le più vere, sono le più autentiche. Allora Francesco, colui che ci parla della minorità, cioè vedere l'altro sempre superiore a noi stessi, riprendendo la parola di Paolo, ecco ci porta a condemnare non soltanto la bellezza del creato, ma la bellezza dell'amicizia, perché l'altro non è mio nemico ma è mio fratello. Grazie.